Grandissimo Gianca 61, ormai da consueta tradizione l'8 agosto ti festeggiamo sulle spiagge, nei locali e l'anno scorso anche sulle barche ferme della Maremma. Questa volta i donatori hanno voluto mettere in risalto due delle tue innumerevoli qualità. Ah, una già conosciuta, negli anni di grande uomo di casa, fiscina, campo di calcetto e soprattutto giardino, il porcinai del galluzzo. Ci sarà consegnata questa splendida Honda HRGV 536 WKEA. Io sono andato a vedere su internet, c'è scritto caratteristiche, un video di 12 minuti, due parole in questa maniera che ti spiega il sacchetto, la bombola. Questa è una cosa amicidale. E giustamente dice Duccio, ma ce l'ha la patente? Dice, ma ce l'ha la patente? Questo non si sa. Questo è il top, il top. Abbiamo saputo dalla sua signora che gli garbava. Questo no, questo è veramente un oggetto uno. Alla signora, alla signora. Mi ha detto, Lomino mi ha detto, veniamo il 28 agosto. Ma ho detto, il 27 si va allo stadio, magari si perde, siamo un cazzato. Carlo, devi dire il pregresso. Io avevo proposto di rifilarli quella di Luigi. Inizialmente. Questo non volevo fare. Io avevo detto, si compra, si compra, si compra, io avevo detto, si compra, il tela, la copertina nuova. Fategli questo, però il 29 agosto me la deve portare questo qui. No, tu no, 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 no. Senza giardiniere. Senza giardiniere. Devo dire, è bellozzo. Senza giardiniere è bellozzo, devo dire. Io ho scritto senza giardiniere. E poi un nuovo omaggio che hai aperto, rivoluzionario, semi esoterico, di asceta, di atleta soft, di meditazione e yoga. Anche se è sempre un po' pigro e comodone, oltre che snodatissimo nelle varie posizioni. Diverti, ti agisci, riposa, taglia e medita. Tanti auguri da tutti noi. Diamo un battaglione un mezzo. Diamo un battaglione un mezzo. Le coppia.